Buongiorno a tutti, sono Maria Luisa D'Amico, sono nata e cresciuta a Roma. Sono alta o bassa 1,55 m, ho 69 anni e mi piace tanto recitare, è la mia passione che faccio tanto volentieri. Mi piace anche studiare le lingue, so parlare un po' il francese, un po' so studiando l'inglese, mi piace conoscere e sapere fare tutto, altre cose nuove e cose belle. Arrivederci, grazie a tutti.